29 maggio 1814, muore a Parigi Joséphine Taché de la Pagerie, prima moglie di Napoleone. Nata in Martinica nel 1763, Joséphine sposa nel 1777 l'ufficiale Alexandre de Beauharnais che finisce sul patibolo durante il terrore. Nel 1795 Joséphine incontra il generale Napoleone Bonaparte. Nel 1804, nella cattedrale di Notre-Dame, Napoleone e Joséphine vengono incoronati imperatore e imperatrice dei francesi. Nel 1809, quando appare chiaro che non poteva più avere figli, Joséphine accetta dolorosamente il divorzio da Napoleone che si risposa con Maria Luigia d'Austria.